Scherzi a parte, Ezra Pound diceva che chi non è disposto ad andare in fondo per difendere le sue idee o ha idee che valgono poco o vale poco lui. E per me l'amicizia, la lealtà, la generosità, la solidarietà non sono parole da scrivere su Instagram la sera prima di addormentarsi andando a cercare delle poesie per dare la buonanotte. Nella vita si può sbagliare, nella vita io sbaglio almeno 20 volte al giorno. Io penso che qua ci siano persone per bene che in buona fede sbagliano nel loro lavoro, nei loro affetti, nei loro rapporti familiari, con gli insegnanti, con i figli, con i nipoti. Quindi si sbaglia, però l'importante dopo aver sbagliato è capire dove si è sbagliato e avere la forza, l'orgoglio e l'umiltà di rialzarsi in piedi, perché dopo ogni caduta c'è una nuova avventura.